Uomini e donne barra verticale Tina Cipollari e Domenico barra verticale, bubaccio. Prosegue l'esilarante corteggiamento del Cavaliere Domenico nei confronti dell'opinionista. E alla fine arrivò il bacio. Dopo settimane di scherzoso corteggiamento, a uomini e donne il Cavaliere Domenico riesce nell'intento di baciare la sua adorata Tina Cipollari. Un siparietto scanzonato diretto da una divertita Maria De Filippi. Nella puntata in onda ieri, Domenico riesce ad accalappiare Tina subito dopo il suo ingresso in studio. La conduttrice, infatti, lo invita a salutarla e lui non se lo fa ripetere due volte. La Cipollari scappa, si dimena, ma il Cavaliere non si scoraggia e riesce nel suo interno. In realtà in trasmissione.